Ok raga, oggi si riparte ufficialmente con i video perché mi sono comprato il telefono nuovo 1622 euro cash ZAN usciti al volo Mi sono preso l'iPhone 15 Pro da 512 Non me la son sentita riprendere i tagli più piccoli perché in realtà mi sarebbero ampiamente bastati Però volevo starmene veramente comodo con la memoria E non me la son sentita riprendere quello Max Anche se lo schermo più grande per quanto riguarda i contenuti ci stava Però avevo paura mi rompesse il cazzo proprio a portarselo a giro, tenerselo in tasca eccetera Quindi sono rimasto diciamo nella versione standard Niente 1600 euro cash Quindi se volete aiutarmi a alleggerire questa spesa in mane Lasciatemi semplicemente un commentino e un like Io soldi non ne voglio però ecco se mi aiutate a far girare maggiormente i video Chiaramente YouTube mi paga di più e quindi togliamoli a loro questi soldi Togliamoglieli Allora andiamo a fare qualche pull Lascerò proprio il reminder proprio a schermo E se vuoi aiutarmi a ripagarmi il telefono Lascia un like e un commentino Quindi proprio raga elemosina completa Così per farvi anche un po' pena Allora Allora va bene No scherzi a parte non mi servono soldi Però se mi volete dare una mano col canale Chiaramente vi ringrazio Ci facciamo un po' di pullate sul banner Cioè un po' di pullate Vado avanti fino alla Multi Z Power da 600 In realtà non mi serve Quindi è una pullata un po' così Per diciamo festeggiare il telefono nuovo Fare il primo video col telefono nuovo Ho 53.000 crono Quindi andandone a spendere 3.000 Va bene Nel senso rimango comunque con 50.000 Mi terrò la Multi Z Power in saccoccia Ne ho già un'altra chiaramente Per vedere un po' chi uscirà come prossima LF E' verosimile no? Che esca chiaramente un LF Movie E il Movie è un team che mi interessa abbastanza Quindi potrebbe tornarmi utile Avendone già un'altra Ho praticamente due copie in questo modo Dell'eventuale prossima LF Quindi mi basterebbe pullarla una volta E poi con doppia Multi Z Power La mando a 6 e sarebbe a posto Quindi diciamo che è un investimento preventivo Poi magari esce un LF che non mi interessa Pazienza questa la darò a qualcun altro Magari la do a Gokusa La do comunque a un LF valida Quindi non mi sento di dire che sono Che siano 3.000 crono buttate completamente Vado a farmi le pullate Chiaramente non credo che abbiano Messo personaggi decenti Ok ho sbagliato già subito Non credo che abbiano messo personaggi decenti Infatti allora Non troverò nessuno Non ho mai trovato nessuno sinceramente In questi banner Però mi andrebbe bene a questo punto Un bel Gohan Viola Sì Mi basta Allora se mi esce qualche LF extra Mi basta che non le abbia a 14 Poi mi vanno bene tutte Cioè Non voglio fare l'esigente Anche questo freezerino a sto giro Quasi quasi lo vorrei Non voglio fare l'esigente Mi basterebbe ecco non trovare quelle Che ho già a 14 Vabbè Partiamo perché chiaramente Faccio sempre i preamboli Di due ore e mezzo E partiamo con Con il primo Spero di aver regolato giusto Anche l'audio Perché Almeno non lo edito In post produzione Quindi fatemi sapere Anche se l'audio Va bene O se fa cacare Mi sembra forse un po' troppo alto L'audio di gioco Vediamo Vai Goku Totoria Barter Vai siamo tutti nella stessa saga Ok lui non c'entra niente Mamma mia E mamma mia Ok Ok ragazzi Lo sapevamo Lo sapevamo Andiamo Però anche così Per il meme Secondo me Ci potrebbe stare Trovare qualcosa Di decente Ok Freezer Cazzottone In pancia Lo lanciamo Vediamo se si caga addosso Vediamo Non si caga addosso Lo sterco La fuffa La merda La diarrea E vabbè Non vado avanti Con ulteriori sinonimi Ok Bastava un ulteriore sinonimo Soltanto Andiamo avanti Sarei tentato Di skippare Perché alla fine Cioè Cosa pullo a fare Mi servono solamente Le multi zeta power Però vabbè Dai Vediamocene Ok super saia Ma Mi è concesso Almeno Trovare delle sparking Mi è concesso Almeno Trovare delle sparking Non credo Che bruttura Avanti ancora C'era verde tre pod Neanche le sparking Quelle base Neanche quelle Proprio Merdose Pugno in pancia Dai Almeno Fallo cagare addosso Di brutto Fallo spruzzare Di diarrea Vediamo Niente Addirittura Prendiamo gli schiaffi E addirittura Crepiamo male Va bene Eh te ridi Ma io piango Oh La prima La prima sparking Gianemba Che sarà Probabilmente La prossima LF Oppure la prossima Ultra Secondo voi Sarà LF O Ultra Raga Non mi ricordo A che step Devo arrivare Mi pare Non mi far fare Le cazzate Vediamo un attimo Allora Me ne servono 18 Però ne ho 8 Quindi ancora Bisogna andare avanti Me ne servono altri Vabbè Intanto andiamo Ok Si lisciano Sono entrambi Troppo veloci Ma anche Troppo lenti Doppia 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 Schifo Raga la schifo 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 L'animazione Mi guardo Solo le Pullatine Ma almeno Le sparking Quelle merdose Un attimino Per niente Totale Proprio Zero E questo Dovrebbe essere L'ultimo Se non sbaglio 3.000 Le ho spese E Basta Direi Che ci siamo Vado un'altra volta Così Tanto non ci interessa Nappa Bello pelato Darbula Altrettanto pelato Ok Nail Sono tutti pelati Abbiamo tutti pelati Tutti pelati Pull pelati Pull pelati Pull pelati Totali Ok Allora Dovremmo esserci Cioè Quindi sono andato Oltre Raga Ma chi se le Ricorda Ma perché non controllo Le cose prima Vabbè Comunque Siamo a posto 3.000 Le abbiamo spese Mi vado a prendere Chiaramente La multi zeta power E Purtroppo Non riesco a prendermi Anche quell'altra Mi prenderò Le cazzatine Quelle Queste qua Va bene Veramente un'inculatina Perché 25 Se erano state Perfette Non ci lamentiamo Quello che volevamo L'abbiamo Ottenuto E niente Raga Video diciamo Di inaugurazione Del nuovo telefono Finito Chiaramente Ora mi vado a registrare Un po' di gameplay Proverò Broly Con L'equipaggiamento Nuovo Voglio provare Gogeta Quello Zenkai Cioè nel senso In questi giorni Faccio uscire Un po' di roba Perché chiaramente C'è capito C'è da recuperare Del tempo perso E soprattutto Dei soldi Dei soldi persi Non vi dimenticate Il like E il commentino Non vi dimenticate Quando Questa Cioè Cioè Pregnate In